Ok, boomer. Ok, boomer. Ok, boomer. Quando un giovane millennial vuole etichettere un adulto per le sue idee conservatrici, paternalistiche, reazionali, usa un'espressione. Ok, boomer. Ma qual è l'etimo di questa parola? Da dove viene questa espressione? Chi furono questi boomer? Furono davvero dei fautori di idee conservatrici, antiquate, superate? O si rivelarono bensì dei promotori di un cambiamento culturale i cui vantaggi sono ancora oggi tangibili? Scopriamola assieme con questa nuova video-lezione delle fonti della storia. L'argomento di oggi è il 68. Tre sono i capitoli. I prodromi, le rivolte studentesche del 68, le conseguenze delle rivolte. L'ultimo capitolo è sua volta diviso in tre paragrafi. Il femminismo, i diritti LGBT e l'ambientalismo. Come di prassi, definiamo il significato di alcuni termini ricorrenti. Glossario. Movimento hippie è una controcultura degli anni Sessanta che rifiutava i valori caratterizzanti della società del secondo dopoguerra. C'è la baby boom generation, che sono tutte quelle persone nate tra la fine della seconda guerra mondiale e l'inizio degli anni Sessanta. LGBT è un acronimo, sta per lesbiche, gay, bisessuali e transgender. Infine, femminismo. È un movimento, il cui obiettivo era, ed è tutt'oggi, la conquista della parità dei diritti fra uomo e donna. Cominciamo subito. Capitolo primo. I prodromi. Un ottimo strumento per comprendere un'epoca è osservarne la pubblicità. Per questo adesso noi osserveremo alcuni spot pubblicitari degli anni Cinquanta e Sessanta. Nel primo vediamo un uomo e una donna suoi denti, paiono felici. E cos'è che ha dato loro questa felicità? È in primo piano. Un elettrodomestico. Sì, acquistare elettrodomestici dà felicità. Non c'è però solo questo messaggio, ossia la felicità sta nel possedere gli oggetti, ma c'è anche un messaggio di tipo sessista. La frase, infatti, tradotta, dice Lo chef può fare qualsiasi cosa, ma cucinare, quello è una cosa per donne. Qua viene anche definito il ruolo della donna, che è quello non di realizzarsi professionalmente, ma quello di stare in cucina. In cucina fare cosa, direte voi? Osserviamo quest'altra pubblicità. Il buongiorno si vede dal mattino. Seduto chi c'è? C'è l'uomo, il maschio, che si gode la mattina leggendo il giornale facendo una colazione, perché dovrà andare a lavorare. In piedi c'è la donna, lei non può godersi la colazione, perché il suo ruolo è occuparsi del marito e occuparsi dei figli. I ruoli della famiglia sono chiaramente definiti. Il maschio è il capofamiglia, lavora la donna, è subordinata al marito, sta a casa, si occupa della famiglia. Questa visione della società, con questi ruoli ben definiti tra marito e moglie, dove non c'è possibilità di realizzazione per la donna, dove non c'è possibilità per forme di amore alternativo, omosessuale, bisessuale, figuriamoci transgender. Ecco, in questa visione i giovani, nati negli anni 50 e cresciuti negli anni 60, cominciavano ad avvertire un senso di oppressione. Un altro valore caratterizzante della società degli anni 50 e 60 fu la guerra. Quando la patria chiama, si va e si combatte, dando anche la propria vita. Gli Stati Uniti, negli anni 50 e 60, furono impegnati nella famosa guerra fredda. Guerra fredda che comportò anche delle guerre calde in alcune aree geografiche della Terra. Negli anni 50 in Corea, negli anni 60 in Vietnam. L'immagine che si vede rappresenta proprio una scena della guerra in Vietnam. Quasi tutti i giovani tra i 18 e i 25 anni furono mandati a combattere questa guerra e ne tornarono devastati. O mutilati fisicamente, oppure devastati da un punto di vista psicologico. Questo ebbe un impatto fortissimo sui giovani, i ragazzi e le ragazze, che cominciarono a chiedersi ma la guerra è veramente un valore? Non è forse un disvalore? Il vero valore non è forse la pace? Ne nacque un desiderio di qualcosa di nuovo, di una società diversa, con valori nuovi. Questo fermento crebbe, crebbe, e alla fine degli anni 60 esplose in rivolte. Le rivolte studentesche del 68. Foto, emblema delle rivolte studentesche del 68. Dei giovani studenti, anzi qua è un giovane studente, mette dei fiori nelle canne dei fuscini dei soldati. Mettete fiori nei vostri cannoni. Uno slogan rappresentativo dei figli dei fiori, degli hippie. I giovani protestavano anche perché volevano essere liberi di dire la propria idea. Qua una manifestazione in Inghilterra, dove gli studenti invocano proprio la libertà di espressione. Vogliono esprimere la loro insofferenza verso i valori preimposti dai loro genitori, in cui non si identificano. Un'altra frase emblematica di quegli anni fu, fate l'amore e non fate la guerra. Libertà, non importa se lo fai con un uomo o con una donna l'amore, l'importante è che lo fai. Non è ammesso solo l'amore tra uomo e donna. L'amore è sempre ammesso. Quello che non è ammesso, non è più accettato come valore, è la guerra. La manifestazione culmine del pensiero hippie, che si può racchiudere in due parole. Uguaglianza, senza distinzioni di razza, di religione o di genere. E pace, in contrapposizione ad ogni forma di violenza e di guerra. La manifestazione culmine fu il concerto di Woodstock. Iniziò il 15 agosto del 1969. Un milione di giovani si riunirono. Tre giorni di musica ininterrotta. In un'atmosfera di uguaglianza, di pace e di serenità. E di autogestione. Si esibirono i più grandi musicisti. Joan Bates, che cantò Blowing in the Wind, la canzone manifesto delle rivolte dell'epoca, scritta da Bob Dylan. Janis Joplin. Jimi Hendrix, mancino, che con la chitarra suonò l'inno degli Stati Uniti d'America. Questa esecuzione ovviamente fu percepita dai boomer dell'epoca, cioè dai conservatori e dai paternalisti, come un gesto di affronto nei confronti della nazione. Ma in realtà era un'allegoria. L'inno degli Stati Uniti, suonato con la chitarra distorta, simboleggiava il cambiamento che questi giovani proponevano alla società. Una nuova società fondata su nuovi valori. Queste rivolte si rivelerono fini in se stesse? Tutt'altro. Ebbero un impatto fortissimo sulla società, cambiandola radicalmente. O meglio, dando inizio a un graduale ma rivoluzionario cambiamento. Vediamo tre di questi cambiamenti. Il primo, il femminismo. Sapete cos'è il reato di adulterio? È un reato che esisteva in Italia fino al 1968. Non è un caso, è il 68. Bastava che l'uomo denunciasse la propria moglie anche per un solo, singolo caso di adulterio, perché la donna venisse punita con il carcere fino a un anno. Due, se l'adulterio era stato commesso più di una volta. Questo è chiaro. Valeva solo per la donna. Nel caso in cui fosse stato il marito a tradire la donna, beh, era un peccato, sì, da un punto di vista cristiano, ma socialmente accettabile. Non c'era il carcere. Un chiaro esempio di sessismo che esisteva nella società italiana. E le rivolte studentesche degli anni Sessanta ebbero proprio come primo risultato quello di far abolire questa legge, che dal 1968 non venne più applicata. I principi dei movimenti sessantottini, fra cui c'era l'uguaglianza senza distinzione di genere, quindi tra uomo e donna, si fece la bandiera, il vestillo del femminismo nel corso degli anni Settanta. Le donne riuscirono a compiere grandi conquiste. La seconda fu quella della legge sul divorzio. Pensate che fino al 1970 le mogli italiane non potevano divorziare dal marito, in nessun caso. Il marito le tradiva? Se lo dovevano tenere. Il marito le picchiava? Se lo dovevano tenere. Il marito era un violento, un ubriacone, non lavorava, stava a casa? Se lo dovevano tenere. Nel 1970 fu approvata una legge. Il divorzio era legale, come viene annunciato dal titolo dell'Avanti del 18 dicembre del 1970. Il problema è che l'Italia era un paese fortemente cattolico, e così i partiti cattolici si unirono assieme per promuovere un referendum abrogativo. In pratica c'era la convinzione che gli italiani, essendo dei cattolici, erano quasi tutti contrari al divorzio. Quindi se ci fosse stato un referendum, la legge sul divorzio sarebbe stata abrogata. Ne nacque una lotta fortissima tra chi era a favore e chi era contro il divorzio. Si arrivò al 1974, al referendum. Quasi il 60% degli italiani si dimostrò a favore del divorzio. Ma non fu l'unica conquista. Ce ne fu un'altra, una terza. Il diritto della donna di portare o non portare avanti una gravidanza. Per una maternità libera, aborto libero. Anche qui ne nacque un accesso di dibattito. Ebbe il suo culmine nel 1978 con un referendum. Ancora una volta il movimento femminista vinse. L'aborto divenne leggi. Le donne, nell'ambito di determinate regole ben definite, certo, avevano però il diritto di decidere se portare o non portare avanti la gravidanza. Negli anni 70 il femminismo ottenne delle vittorie memorabili. Ma che dire dei diritti, per esempio, degli omosessuali? Vediamolo nel secondo paragrafo. Uno dei due principi hippie degli anni 60 era l'uguaglianza, senza distinzione di genere. Questo voleva dire che non c'era differenza tra uomo e donna, ma voleva anche dire che non c'era differenza tra eterosessuali e omosessuali. Sul finire degli anni 70 cominciarono a intensificarsi le manifestazioni dei diritti gay. La prima manifestazione si ebbe nel 1979 a Washington. Nell'immagine vediamo proprio fotografata questo primo evento. In Italia purtroppo si dovette attendere 15 anni. Si arrivò al 1994, quando fu tenuto a Roma il primo gay pride. Il primo paese al mondo che concesse il matrimonio tra persone dello stesso sesso fu la Danimarca nel 1989. A ruota moltissimi altri paesi europei e occidentali concessori il matrimonio omosessuale. Purtroppo in Italia non abbiamo ancora una legislazione che garantisca il diritto degli omosessuali di sposarsi. Però in tempi recenti è stata raggiunta una conquista significativa, considerato che siamo un paese di matrice cattolica. Il diritto degli omosessuali di unirsi civilmente. Una sorta di matrimonio di serie B. I principi sessantottini di uguaglianza senza distinzione di genere, di razza e di religione e di pace e armonia e fratellanza hanno impliciti in sé il germe di un movimento oggi molto diffuso, il movimento ambientalista. E sì, perché se ci dobbiamo amare e voler bene, se siamo tutti uguali, questo è possibile solo in un mondo dove si rispetta l'ambiente, gli animali e la natura. Dove non si sfrutta le risorse della Terra portando alla distruzione. Negli anni Sessanta, sotto la guida di scienziati sensibili all'argomento, si diffusero movimenti di sensibilizzazione all'ambiente e ai problemi dell'inquinamento. L'apice di queste manifestazioni lo state vivendo proprio voi in questi ultimi anni, con i movimenti a favore dell'ambiente Friday for Futures. Adesso possiamo tornare alla domanda che ci siamo fatti all'inizio. I boomer, la generazione nata negli anni 50, si può definire una generazione promotrice di pensieri paternalistici, conservatori e reazionari? O piuttosto sarebbe meglio identificarla come una generazione fautrice di un rinnovamento culturale e quei vantaggi e quei benefici sono ancora oggi tangibili? A voi la risposta. Purtroppo i risultati delle rivolte studentesche non furono tutte rose e fiori. Queste rivolte produssero anche dei frutti marci. In particolar modo due. Il primo fu la diffusione dell'abuso di sostanze stupefacenti. Il secondo frutto marcio delle rivolte studentesche fu la radicalizzazione violenta. Molti studenti erano convinti che per apportare un vero cambiamento ci volesse la forza, ci volesse la guerra. Negli anni 70 si diffusero scontri, attentati, che passarono alla storia col nome di anni di piombo. Ma di questo sarà bene parlarne approfonditamente in una prossima lezione.